A chi piace la musica rock, veramente, a voi piace la musica rock, perché ascoltate la musica rock, perché vi dà energia, perché vi fa scaricare la tensione, l'ansia, che non so, io la utilizzo proprio così, io per me è terapeutica la musica rock, e la utilizzo anche per esorcizzare le cose che mi fanno incazzare veramente, c'è una cosa che ti fa incazzare veramente, a parte i famigli che ti arrivano quando sono giovanotti, c'è qualcosa che ti fa incazzare, tipo, che ne so, La moglie No, sto scherzando Per esempio, io, c'è una cosa che I tovagli anni, quelle che, avete presente quelli che sono nei bar, quando comunque mi sono fatto un cazzo Non ci penso Una cosa che mi fa rambiare, sono i tuoi pagliolini al balcone, va Se pulici la bocca da un cornetto, ti ritrovi la crema dietro all'orecchio E' giunto pagliolino, serve ad asciugare, è inutile negarlo, che cazzo ci stai a fare, io ti emiterò Vogliare, parassita, piuttosto mi poterisco Con la carta della donna Eh? Cinque minuti Cinque minuti Grazie Grazie